Il porto di Policastro mira a divenire un punto d'attracco per le grandi imbarcazioni, uno scalo moderno adeguato anche per la sosta dei traghetti diretti alle isole eolie. L'obiettivo è ambizioso ma il comune non teme la sfida con la promessa fatta con la città. L'approdo situato nel centro cittadino è già destinatario di un finanziamento di 3 milioni di euro e secondo le previsioni dell'amministrazione in tempi brevissimi dovrebbe aprire il cantiere che consentirà l'ampliamento dello scalo e il potenziamento dei servizi. Intanto lunedì prossimo sarà dato il via ad altre due importanti opere che con gli appositi progetti saranno presentate alla comunità. La mattina alle 11.30 Santa Marina aprirà il cantiere per la costruzione del centro di accoglienza polifunzionale, una struttura polivalente destinata all'intero comprensorio dove saranno possibili attività ricreative di formazione e culturali. L'opera è stata finanziata con i fondi por campagna per un totale di 1 milione e 200 mila euro e sarà realizzata al posto dell'aula polivalente già esistente. Nel pomeriggio di lunedì alla frazione Policastro saranno inaugurati i lavori per la costruzione del cineteatro che come mostra il progetto trasformerà completamente l'ex edificio della scuola elementare, un lavoro che dovrà terminare entro dicembre 2015 per poter ottenere dalla regione il finanziamento di 3 milioni di euro assegnati al comune attraverso l'accelerazione della spesa. Intanto a Sapri va avanti l'azione del comune per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. In questi giorni il progetto per la costruzione della nuova scuola primaria della Dante Alighieri ha ottenuto il via libera della soprintendenza. Sorgerà al fianco dell'attuale scuola media dello stesso istituto comprensivo. Ora si attende lo stanziamento dei fondi dei quali il comune sarebbe già destinatario. Nel frattempo è indirittura d'arrivo l'iter per l'assegnazione definitiva dei lavori già finanziati per la realizzazione del nuovo edificio per materne primarie di via Kennedy. Gli interventi dovrebbero iniziare prima della fine dell'anno. Il consiglio d'istituto per vigilare sul cronoprogramma dei lavori ha istituito una commissione formata da due docenti e due genitori. Avrà il compito di accertare che i tempi vengano rispettati per consentire alla scuola di poter entrare nel nuovo plesso entro dicembre del prossimo anno così come prevede il bando per l'appalto dei lavori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.